Quindi fammi capire, ti stai pavoneggiando con i tuoi amici perché hai iniziato un nuovo corso di crescita personale online, fatto da casa tua, comodamente davanti al tuo display, vero? Ma lo sai che l'87% delle persone che iniziano un corso del genere fallisce miseramente? Perché? Perché non hanno quel mindset necessario per portarlo a termine o per acquisire le informazioni che dovrebbero poi tramutare in azione. Come fare? La soluzione è una sola, investosudime.com perché? Perché noi insegniamo a farlo sudando. Quindi se tu apprezzi, capisci che la sfida contro te stesso si risolve solo vincendo contro la tua stessa persona e allora tutto sarà in discesa, non ci sono altri sistemi. Non bisogna farlo con il love and peace, non arriva a nulla. Ci vuole qualcuno che vi insegni a studiare, niente altro. Un abbraccio da Tony.